Il mio intervento è velocissimo e confermo tutto quello che ha detto Cristina, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, tutto deve essere pubblico, sia costituzionalmente che a livello comunale, municipale eccetera. Qui vedo molte persone che siamo tutti del no autonomia differenziata, è una cosa importantissima perché 23 materie potrebbero andare, passare dallo Stato alle regioni e questa è la più grossa privatizzazione che potevano inventarsi e faranno così. Per cui speriamo bene, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie anche per la brevità.